Giorno Più di ieri Ma meno di domani Giorno 26 No, 27 Giorno 27 Oh, ce l'abbiamo fatta C'è lì, c'è la nostra camera E lì ci sono i cavalli E il giorno 27 Inizia così Di là c'è nonno Claudio Con Emma Se guardi bene Laggiù Sei in America Ma devi guardare proprio bene Anche Emma Il tuo bastone Due cagnolini Due cagnolini Ah, sorry La storia La casa col tetto di paglia La casa del mulino bianco Ci manca la ruota Ed è il mulino bianco totale Io non so se la gente è pronta per questo Buona colazione Buona colazione Buona colazione Oh no, mulan ce n'è solo uno Ed è stupendo Mulan 2 è meno bello Sì ma è bello No, è più bello E ce l'hai di ricambio? Abbiamo un kit di riparazione Non lo chiami Cos'è cosa Timotipo? Però ti dirò Abbiamo un problema con la gomma Documentiamo il pompaggio ruota Perché è fondamentale capire come si pompa una gomma Intanto campiamo l'attrezzo soprattutto Poi infiliamo il maschio nella femmina Come sempre La femmina è il maschio E si gonfia forte Prende E da qua Perde? Meno male che abbiamo trovato... Da dove perdi Da qua, senti Una spina di pruno Di pruno? Eh sì Sicuramente non al loro passo Anche perché Allora abbiamo messo uno scotch Di quelli da medico Sottra una cosa Un buco E vediamo un po' che funziona Grazie Allora prendere una cosa Tutto ok? nell'attesa che timon ti torni da eroe da eroe quale è a prendere la pompetta nonno claudio detto il vecchio gli insegna le capriole e le sue bimbe fai vedere un po le capriole nonno claudio 62 non sentirli ecco l'arrivo dell'eroe timothy con la pompetta nuova la pompetta nuova e gli occhiali che belli occhiali a chiesa i peccuri di prima di aidi col cavallo e il mare si vede già che qui cambia la situazione da porto a qui che siamo un po più sul selvaggio andante il richiamo della spagna tra galizia si fa sentire noi dobbiamo arrivare a quel monte là ma ti è cresciuta la pancia anche a te 9 mesi aspetta 9 mesi poi parturismo come lo chiami? timothy si è aggiunta anche la signora elisa che ci ha chiesto un padre nostro a santiago siamo a 3 abbiamo lasciato le bimbe un attimino dietro al sole con mamma e papà perché cominciano ad essere un po stanche e cercavano di farle dormire ma momento super emozionante perché quel monte lì è guada o guarda non so bene qua c'è camigna tra poco prenderemo un traghetto per arrivare dall'altra parte e quel monte lì è già a spagna la galizia la galizia non è solo timothy l'eroe del gruppo no tu sei un grande tu sei l'eroe di cui abbiamo bisogno siamo arrivati un gigante buono amore adesso vai sul passeggino grazie marty come si dice martino grazie martino prego devo toglierla noi si mangia le bimbe cotte cotte a puntino allora da Porte Vedra sono 21 e 22 km allora momento fondamentale del nostro viaggio stiamo andando da camigna a guardia a guardia ma non sto a guardia a porto no a passaggio al passaggio a 2 km a guardia 2 km ma 2 km per la calle no a fare il cammino si con la calle ok 2 km con la calle con la macchina con la macchina si no camminando camminando ok momento fondamentale perché dopo 27 giorni usciamo dal Portogallo ed entriamo in Spagna con il gruppo vacanze famiglia allargata dai dai fai col titone così dai ma cosa più importante il nostro progetto Freaking siamo arrivati ormai a 5.000 euro ci si eeeh si parte via mi piace? andiamo in Spagna eeeh 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 siamo arrivati al primo alberghe in Spagna siamo in Spagna stiamo andando a fare la lavadora e la seccadora che culo che fortuna Martino ti abbiamo detto che non devi dire le parolacce no parolacce la sistemazione tavole per oggi è questa siamo usciti in 11 9 adulti e 2 bambine il nostro organizzatore delle vacanze di Piemonte ha organizzato un po' di cose ci ha un po' separato che non è bello però alla fine il locale è quasi tutto nostro quindi faremo un casino a madone che ci butterà fuori il prima possibile agli aggiornamenti a dopo no taglia bene sta sfuggendo di mano sulla carrozzina adesso c'è un bambino che non posso inquadrare ma è un bambino che non conosciamo non sappiamo chi sia l'hanno messo lì gli hanno messo gli occhiali di Alma quindi boh qui in piazza non si sa bene dove e abbiamo trovato un po' di bambini spagnoli e il buon nonno Claudio sta facendo fare i giri ai bambini locali sul carrettino e niente ovviamente è un euro a tratta così almeno è matto oggi è finito il giorno 27 Claudio vuoi dire ancora qualcosa? quindi no è stata una bellissima giornata rilassante abbiamo fatto 23 chilometri in sei ore in sei ore è stata una bella giornata proprio una bellissima giornata ci stava ci stava bene a domani notte notte